Cari amici, buongiorno. Torniamo a raccontarvi di questo bellissimo torneo, di questo bellissimo ombelico del mondo, il secondo weekend. Partiamo, sì, ma partiamo fortissimo perché il primo match tra gli altri ha visto in campo Alessandro Bianchi. Ciao Alessandro, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Campionissimo da scudetto, con la tua squadra al tempo che era l'Inter. Certo, certo. Ad un campo inusuale per te che sei abituato a un campo da biliardo perfetto come l'erba. Dall'erba alla sabbia. Beh, diciamo che io, abitando proprio qui a Cervia, sono nato qui a Cervia, quindi è già da vent'anni che gioco questo sport. Da quando è venuto, è nato questo sport, che è nato poi in Brasile, poi è stato portato qui in Italia, ho iniziato subito a giocare e mi sono subito appassionato. Quindi diciamo che non sono, tra virgolette, un novellino. Anzi, tra le altre cose, sei cresciuto su questo pezzo di sabbia. Hai accettato l'invito, immagino per amicizia di Bobo, ma anche per lo scopo nobile che ci dirotta ogni weekend tutti e i tuoi colleghi qui. Beh, certo, sicuramente. Fare beneficenza, essere presente a queste manifestazioni fa sempre bene e ti dà un qualcosa anche a te. Il punto di vista di uno che ha lo sport forgiato, ammazza complimenti, ma ci dai ancora dentro a quanto pare. Beh, dai, qualcosina faccio, ma ti dico, quando quasi tutti i giorni gioco, quindi è normale che, dai, riesco a tenermi abbastanza in forma. Si dice che il lavoro, ma anche lo sport nobiliti l'uomo, lo sport che nobilita Alessandro Bianchi. Grazie di essere stato con noi. Prego, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.